Ho rinunciato a colpire con il coltello il prossimo PM che saresti stato tu. Doveva essere il pubblico ministero della procura di Terni che lo stava interrogando su delega della DDA di Lecce. Emergono nuove dichiarazioni del detenuto brindisino Pancrazio Carrino dal verbale dell'interrogatorio in cui lo scorso 23 ottobre ha confessato di essersi finto pentito per incontrare la PM della DDA di Lecce, Carmen Ruggero, in modo da avere un'occasione per ucciderla. Carrino ha ammesso di aver minacciato la GIP Maria Francesca Mariano perché arrabbiato con tutto il sistema giuridico dopo essere stato accusato di violenza sessuale. Storia fantomatica, ha detto. Carrino, dopo aver descritto il folle piano per tagliare la gola alla magistrata Salentina, ha spiegato che la morte del pubblico ministero di Terni, Raffaele Pesiri, avrebbe dovuto essere un messaggio per la dottoressa Ruggero. Il detenuto ha anche raccontato di essersi riuscito a procurare un pezzo di ceramica ricavato dal bordo interno del batter della sua cela di isolamento da usare come coltello e ha aggiunto che su quel pezzo di ceramica ha scritto il nome Ruggero, per poi spiegare di averlo nascosto in cella. Non l'ho portato, si legge nel verbale, per non essere tentato, per non usarlo quindi e ha dichiarato di volerlo consegnare agli agenti della polizia penitenziaria. La PM Ruggero e la GIP Mariano nelle scorse settimane hanno ricevuto lettere minatorie e sono finite sotto scorta. Alla GIP Mariano inoltre è stata recapitata una testa di capretto mozzata lasciata davanti alla sua abitazione.